Una lettera indirizzata al prefetto dell'Aquila Francesco Alecce, un'interrogazione scritta al sindaco Antonio De Crescentis circa l'adeguamento sismico dei plessi scolastici pratolani. Non si ferma la polemica nel centro Peligno dopo l'annuncio di edificare una nuova scuola nell'Exitis. A mettere nero su bianco sono stati nei giorni scorsi consiglieri di opposizione Antonio Di Nino e Antonio Leone, di Pratola innanzitutto, Pratola soprattutto. Secondo i due l'amministrazione comunale avrebbe accantonato i finanziamenti per realizzare il nuovo plesso scolastico. Motivi che ci hanno spinti a rivolgere un'interrogazione a comune per sapere come stanno messe le nostre scuole in termini di sicurezza, in Calzano Di Nino e Leone. Sono state fatte richieste per i moduli scolastici provvisori? A cosa si è dovuto il ritardo di messa in sicurezza delle scuole che ora rischia di aggravarsi con la scelta di fare un polo unico? Quali sono le perizze realizzate per la scuola di Via Colella? Si chiedono i consiglieri. Dal 2012 specificano al nostro comune è stato assegnato un finanziamento di quasi 5 milioni per le scuole d'Abruzzo e il futuro in sicurezza, soldi per l'appunto necessario a rendere più sicure le nostre scuole di piazza indipendenza, Valle Madonne e Via Colella, ma per le scelte dell'amministrazione, a differenza di altri comuni che hanno avviato i lavori, i nostri ragazzi da tre anni frequentano scuole di cui almeno in due case insicure, mentre non è stato previsto nessun intervento o progetto, ma tutto è stato rinviato a dare a destinarsi per realizzare il polo unico. All'indomani poi dell'annuncio della realizzazione della residenza protetta per anziani, Di Nino e Leone invitano i pratolani a non abboccare e lo fanno con un post sulla rete sociale di Facebook. In politica vale quello che si fa e non quello che si dice. A Pratola è iniziata la campagna elettorale e le conferenze stampa aumentano. Polo unico scolastico, residenza per anziani, finanziamenti al santuario, non abboccate, chiosano i due.